Buongiorno, ci teniamo intanto più meglio di tutto a scusarmi, dentro sono ancora in pigiama, struccata, però dopo vi prometto che sono un po' vedecenti, però mi volevo scusare per non esserci stata, ma purtroppo come vi avevo già detto, quando caricavo un video su Youtube mi dava tutta la schermata nera, quindi non riuscivo a capire il perché, spero adesso di aver risolto il problema, non caricando video per un po', adesso vediamo un attimo, comunque tra l'altro mi fa ancora male il polso ovviamente, a me è passata la cosa, comunque, buongiorno anche da questo fragolino qua, amore saluta, amore, comunque non mangia come dovrebbe, si è cresciuto, però non mangia come dovrebbe nel senso che, ora stamattina questa è la ciotola sua, ha finito tutto stranamente, ma fino a ieri mattina non aveva niente, non ne voleva sapere, non ne fregava nulla, niente di niente, non si sa perché questa cosa, comunque, la veterinaria dice che è di poco appetito, ma capito è di poco appetito, però deve mangiare, cioè nel senso non è che non può non mangiare, comunque, vabbè, quindi adesso mi pulisco casa perché è veramente un disastro, perché voglio farlo prima che torni un arco, appunto, sono già alle 11 quasi, e fra un pochino lui torna, e voglio che trova tutto pulito, e che trova mai vestita perché, se no, può succedere, un putiferio, vabbè, un putiferio no, però, comunque, adesso mi pulisco la casa, ci vediamo, allora, ha finito di, di, di le case, abbiamo già mangiato, abbiamo già rigovernato, adesso metteremo fuori il cane, nel frattempo Marco, in bagno, lei deve pulire anche la pipicchia, un fattore, il cane, so che, ne puoi buscare, per cazzo, bravo, prendi le scarpe di babbo, no, ora, guardatelo, cioè, bravo amore, c'è la Teresa, perché stavo guardando il mio grosso, grosso, matrimonio gipsi, tra l'altro, voglio farvi vedere, mia nonna, ci ha dato, il ceppo, con i punti della cortacoppo, infatti, tra l'altro, questa è quella per il ceppo, grosso, e, poi, qui, abbiamo quella tutti per i coltelli, che ancora dobbiamo prendere, aspettiamo di riscuotere, e poi, punto, andiamo, stanza quest'altro, che stanno giocando, amore, amore, vado a sentire se è tutto a posto, perché è un po' che è in bagno, quindi, un po' mi provo, allora, siamo appena tornati a casa, perché sono una risposta, adesso, vi faccio, salutare, anche, Marco Lussoli, ancora, non l'avevate salutato, ma ne saluta, mi ha fatto un po' lì, cioè, è un pasticcino, è un pasticcino, comunque, salutata, guarda, ciao, abbiamo comprato questi, c'erano qui, e questi, si ha le barchette che, vi dico che erano a sconto, abbiamo preso tre marmillate, qui, che sono, tipo il signorino qua, questo qui, l'abbiamo preso per cena, questa è la margherita, con formaggio, cipolla, pancetta, ecco, questo, questo qua, che ho messo sullo fatto, poi altre cose, un po' di yogurt, 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 un po' di yogurt, c'è pronto, yogurt, le olive, queste qui, smacciolate, poi, sempre yogurt, yogurt, e poi ho preso tutta la staccia, e poi ho preso tutta la staccia, e poi ho preso il cuore di lattica, poi abbiamo preso le anze, questo qui, adesso mi faccio subito la staccia, adesso mi faccio subito la staccia, poi abbiamo preso ancora yogurt, e altri yogurt, poi abbiamo preso, questi qui, rosa, poi, questo qui con mango papaya, e, amore, cocco palline di lime, fanno un bel pane, e i clementini, che li mangia, e se signorino, comunque adesso, li metto tutto a posto, e poi mi faccio andare, tremuta adesso, allora, una pizza, già dentro, già dentro la marghiera, questo qui, mi faccio, che è un grosso, c'era, qui c'è una mia insalatina, questo disco, va bene, nel frattempo aveva paura, del sacchetto del sedice, amore, non ti fa nulla, fatti vedere un teo se bello, no, amore, guarda, comunque, questa, non lo sto facendo, perché, niente di che, dopo penso, che mi farò, una bella tazza di latte, quindi sì, penso di sì, adesso vediamo un po', o con questi, con le barchette, adesso vediamo, stanno le stesse volte, perché, perché, questo è lì, adesso vediamo, buon appetito, abbiamo, abbiamo, accionato, e abbiamo già anche, rigovernato, tra un po', scusate, ma tra un po', anima, l'ora, portiamo fuori, anche il piccino, tra l'altro, voglio far vedere, una cosa, dove sei? e, che mi direi, 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 che mi è venuto, questo, ma, bisogna, tutti i giri, ha una cuscina è tutto rosso qua su è tutto rossissimo e non capisco come mai non capisco come mai adesso vediamo ma le autoregenti no no dai Marco si sta mettendo le autoregenti no sono le cance come si chiamano adesso? sono le cance che danno in ospedale prima degli interventi comunque adesso porteremo fuori quest'altro ma mi sembra che stia rossando Jack ma vabbè allora stiamo portando fuori il cane però prima di andare vi volevo far vedere cioè vi volevo dire questa cosa abbiamo comprato queste arance che sono le arance tarocco ma sono sono quelle piccoline quel piccolo così ma sono veramente buone e poi i clementini sono ho preso questi nella scatola però queste arance sono veramente buone tra l'altro sono quelle rosse però sono di un buono adesso potremmo che mi stanno aspettando sia Marco che il canino prende il vuoto tanto no ci dovrebbe essere poi sul real time il mio grosso grassone se non mi sbaglio per non andare guardo direttamente almeno se ci dovesse essere lo metto no no non c'è stavo scherzando allora ti prego la timo tra l'altro Marco gli ho comprato anche queste sabate a nome di desideri comunque adesso vado perché mi stanno aspettando allora noi stiamo andando a letto quindi domani non so quando monterò questo video però domani non ci sarà nessun vlog a questo punto faccio il turno lungo al lavoro quindi niente comunque mi sono dato buonanotte a questo bambino che piccolino qua poi di darla buonanotte anche dire buonanotte more saluta buonanotte ciao ciao sogni d'oro ma di buonanotte per bene dai buonanotte buonanotte si si già fatto zack niente vi mandiamo un bacione enorme vi auguriamo la buonanotte e ci vediamo al prossimo video ciao